Salve, sono Gavino Fiori, nato all'estero in Francia, cresciuto in Sardegna e sono qui perché voglio pubblicizzare favorevolmente, naturalmente perché mi sono trovato benissimo e voglio che tutto il mondo si trovi bene qui a Cisinau. Sono contento, medici fantastici, ambiente fantastico, cosa dire di più? Tutto. Durante quando uno apre il cellulare, Facebook, qua e là, ho letto questa pubblicità mi interessava, dopo tantissimi anni, pensare alla mia persona, quindi investire dei soldi su di me stesso. Ho provato a fare dei preventivi, mi hanno contattato subito e sono stato fortunato perché mi hanno risposto subito e mi sono fidato alla ceca subito di un sardo in Moldavia, come me, un sardo per il mondo. Allora, io ho fatto naturalmente consigliato dall'equipe del dottor Palmas che la mia forma del viso stretta avrebbe supportato sei impianti, ho fatto sei impianti nella parte superiore e sei impianti nella parte inferiore, né avere sanguinamento, dolori, niente e quindi ho affrontato tutto quello che mi avrebbe comportato nell'introduzione dei sei impianti fissi sopra e sotto. Sono felice così. Il problema era molto estetico e quindi mal di denti, sofferenze, siamo cresciuti così, io sono cresciuto così. Non ho mai avuto paura dei dentisti, di quello che si potrebbe, dicono, subire dolore, ma il dolore per me è inesistente. Una volta che lo affronti, lo affronti alla grande. E' quel vizio di portare la mano davanti a coprire un sorriso che avrei voluto che non c'era. E quindi la prima cosa che mi ha portato qua è pensare alla mia persona e riavere il sorriso tranquillo, lucido, perfetto. E adesso, forza, perché ho il coraggio di far vedere tutto. Sono contento, felice. Naturalmente, arrivare qua è stato subito trovare tanti amici. La confidenza era ottima. Sono sempre stati qualche d'uno vicino a te per qualsiasi bisogno. Sono contento, sono contento. Mi trovo bene, lo rifare mille volte occhi chiusi. Adesso è bello, perché non hai più quel problema di coprire niente, di nascondere niente. Sono felice, è una cosa positiva, affronti la vita diversamente, sei più tranquillo. Non hai un grosso problema in meno, perché nella società è quello che conta. La prima cosa che conta in una società è l'immagine che affronti e che hai davanti. E la mia adesso diventa importante, perché io faccio un lavoro importante, sto in mezzo alla gente. E' il primo impatto che hai con le persone, soprattutto il viso, il sorriso, la tua espressione. Poi conta quando apri la bocca, il tuo modo di ridere, parlare senza problemi, non devi coprirti niente. Tutti ti dicono che bel sorriso che hai. Ho fatto 43 anni di edilizia ed è uno dei lavori più belli del mondo, perché tutto ciò che crei lo lasci per un futuro. Ecco perché io amo la storia, amo tutto quello che l'uomo può lasciare, deve durare. Anche questi. Grazie a tutti voi.